Quando si perdono i valori umani, valori della libertà, della civiltà, dei reali diritti e della giustizia, della dignità umana e soprattutto della difesa della vita e vengono questi calpestati e sostituiti dalla logica disumana dei mercati, del profitto ad ogni costo, dei pochi che decidono per molti, calpestando ogni etica e morale, tenendo il popolo schiavo e sotto ricatto nella menzogna. Ecco che siamo alla disintegrazione della società civile e umana. Ancor più tragico se ciò avvenisse con le false apparenze della bontà, del progresso e della disponibilità, facendo il male ma dicendo che per il bene. Questo pensiero unico è la nuova dittatura, ancella del governo futuro dell'anticristo, dove non trova nessuno spazio per altri pensieri e neppure la possibilità di esprimerli. Noi desideriamo essere attenti e non lasciarci imbrogliare volontariamente da nessuno, a nostro danno. I cuori degli uomini non sono mai cambiati e la storia nulla insegna quando il cuore è accecato dal peccato. Non contano quindi le parole se le azioni fanno il contrario. In Dio soltanto noi cristiani confidiamo e speriamo, poiché Lui solo instaurerà quel regno di giustizia, regno eterno e indistruttibile, bramato da tutti gli uomini di buona volontà di ogni tempo. E se molti di colori quali, che dovrebbero rappresentarlo, in realtà sono parte anche loro di questo sistema malato, noi ignorando costoro e prendendone le dovute distanze, come impariamo nelle scritture, proseguiamo alla sequela di Cristo con chi lo ama veramente, in parole e fatti. Procacciare la concordia e la pace non equivale affatto ad accondiscendere al male. Solo così, proseguendo coraggiosamente controcorrente e resistendo convintamente alle seduzioni e alle pressioni tenebrose che incombono, potremmo essere autentici testimoni di Cristo, in attesa della sua gloriosa venuta alla fine dei tempi. Che meravigliosa speranza sapere che presto Gesù tornerà e che noi faremo parte del suo regno che non avrà mai fine.